Approvato il bilancio. Orrini del giorno collegati. Il Capo dello Stato al Salone del Libro. Nella seduta del 12 maggio il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio 2015 e il pluriennale 2015-2017 della Regione. Sono stati votati e approvati anche 25 atti di indirizzo. In chiusura di seduta è stata approvata una mozione per il mantenimento del laboratorio di emodinamica di Moncalieri. In copertina. Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, sblocco dei fondi europei, riordino dei conti con il pagamento dei debiti pregressi. Sono questi i cardini della legge di bilancio approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 12 maggio. Il disavanzo finanziario presunto 2014 risulta di 328 milioni di euro e viene riassorbito nel triennio 2015-2017. In chiusura del dibattito sul bilancio sono stati discussi e votati diversi atti di indirizzo sia di maggioranza che di opposizione. L'Assemblea ne ha approvati 25 con impegni che riguardano il diritto allo studio e la libera scelta educativa, la cooperazione internazionale, la tutela della salute e l'edilizia sanitaria, l'informatizzazione, le politiche sociali, il microcredito, l'imprenditoria, l'artigianato e la promozione delle piccole e medie imprese, i trasporti e il turismo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alle istituzioni regionali e cittadine ha inaugurato la 28esima edizione del Salone del Libro. Anche quest'anno il Consiglio regionale presenta la manifestazione a Torino-Lingotto da giovedì 14 al lunedì 18 maggio nello stand del Padiglione 1 denominato Arena Piemonte. Nel programma presentazione di libri, incontri con le scuole, proiezione di filmati e illustrazione delle attività delle consulte e dei comitati dell'Assemblea. Nel programma presentazione di libri, incontri con le scuole, proiezione di libri, incontri con le scuole, proiezione di libri. Grazie a tutti.